buongiorno io mi chiamo paolo vineis sono professor di epidemiologia all'imperial college di londra e questa mia è la prima presentazione nell'ambito delle conferenze mercoledì dell'accademia delle scienze di torino io ho scelto di parlare di un argomento che è in qualche modo di attualità naturalmente covid argomento dal quale siamo in qualche modo quasi oppressi se ne parla quotidianamente perfino troppo io vorrei far vedere con qualche esempio che cosa c'è dietro i modelli di previsione di previsione epidemiologica che sono quelli che hanno in fondo iniziato tutta la storia di covid perché dopo le prime osservazioni a wang in cina in particolare l'imperial college il gruppo in il ferguson ha iniziato a produrre e distribuire i risultati di modelli previsionali che hanno fatto molto scalpore perché parlavano già allora di potenzialmente milioni di morti nel mondo a causa di questo nuovo virus la mia presentazione quindi riguarda diversi argomenti che cosa vuol dire predire con modelli matematici il ruolo che è stato svolto dai modelli a cui accennavo quelli dell'imperial college e le assunzioni che ci stanno dietro è stato anche prodotto un modello per il piemonte da alcuni miei colleghi dell'università di torino vorrei dare qualche informazione sui limiti dei modelli e il loro uso l'uso che ne viene fatto nella politica e accenno anche a un manifesto per l'uso dei modelli che ho contribuito a scrivere dunque inizio parlando di meteorologia perché perché la previsione si associa spesso nel nostro immaginario con le previsioni del tempo e il l'analogia con la meteorologia è tutt'altro che in diretta perché in realtà la meteorologia ancora negli anni 50 era in una situazione non diversa dalla nostra attuale capacità di predizione dell'epidemia o delle pandemie ovvero era una scienza ancora molto inesatta che non aveva raggiunto quel livello tecnologico che si è raggiunto successivamente è stato proprio a partire dagli anni 50 che la tecnologia per le previsioni meteorologiche si è enormemente sviluppata la predizione in generale non è un'attività soltanto scientifico addirittura non è principalmente scientifica serve molto la decisione questo è importante da da tenere presente le stesse previsioni del tempo hanno grandi implicazioni per esempio di tipo economico e forse per questo che lo sviluppo tecnologico è stato così così rapido ci sono analogie tra la previsione delle epidemie e delle pandemie e la meteorologia per esempio tutte le epidemie sono diverse sono caratterizzate da diversi oggi parliamo molto di r con t quando compare un'epidemia si dice in realtà r con 0 che è la velocità con cui la l'epidemia si diffonde un altro indicatore è la letalità ecco se prendiamo le varie epidemie da quella di influenza quella di ebola a quelle provocate da da coronavirus sars mers e così via ciascuna ha un suo valore di r con zero quindi non so capacità di diffusione nella popolazione e una sua letalità oltre a diversi altri parametri quindi la la previsione non è facile ma anche la previsione del tempo non è non è facile gli uragani sono tutti diversi l'uno dall'altro però le capacità predictive della meteorologia sono maggiori perché ma perché come dice la diapositiva la world meteorologica l'organization a partire soprattutto dal dagli anni settanta in realtà ha promosso l'adozione di standard nella raccolta dei dati e nello scambio di dati e in generale un sistema globale di telecomunicazioni basato sui satelliti e su altri altri strumenti che rende oggi la previsione molto più accurata di quanto non fosse un tempo dicevo prima che la previsione degli uragani è difficile perché ogni uragano è diverso dagli altri contano anche dei cicli periodici come quelli di el nino insomma ci sono interferenze da parte di numerosi elementi numerose variabili che sono però comunque inferiori rispetto alle variabili in gioco per le epidemie e per le pandemie queste sono le fasi di sviluppo dei modelli meteorologici si inizia con l'osservazione si costruisce un modello che richiede di essere interpretato sulla base di questo modello matematico si effettuano delle stime e le prime predizioni poi si verificano le predizioni si effettuano nuove osservazioni così via in modo circolare e si chiama anche predizione numerica del tempo nwp appunto dalla dall'osservazione alla previsione pensiamo che quotidianamente vengono effettuati circa 20 milioni di osservazioni questi sono i dati che vengono accumulati che portano alla definizione delle normali condizioni l'atmosfera è divisa in circa un miliardo di celle ciascuna caratterizzata da un parametro come la temperatura la pressione la direzione del vento poi sulla base di questo si costruisce un modello basato sulle leggi della fisica si ottengono dei risultati intermedi i dati vengono archiviati le prime stime ritornano al livello dell'assimilazione di dati cioè interagiscono con l'acquisizione di nuovi dati e il prodotto finale è una previsione come si vede una procedura complessa la previsione dell'epidemia è ben lontana da questo perché non abbiamo strumenti così sofisticati è anche lontana dalla previsione del tempo perché gli umani interagiscono con i virus se mettono in atto delle delle misure protettive se piove apriamo l'ombrello però l'apertura dell'ombrello non retroagisce sulla sulla pioggia sul tempo mentre invece il lockdown l'uso delle mascherine e i bacini e così via e così via retroagiscono sui virus e quindi modificano le condizioni di diffusione dell'epidemia allora cosa c'è dentro la scatola nera degli algoritmi che vengono usati per predire le epidemie l'argomento è molto complesso io lo semplifico e ribadisco il fatto che il prodotto finale è una politica una scelta politica i modelli originali di dell'imperial college hanno dettato le scelte politiche di diverse nazioni a partire dall'inghilterra dagli stati uniti seppure con tutte le difficoltà della del trasferimento nel nella politica che noi sappiamo ci sono tre tipi generali di modelli uno si chiama sr poi evoluto in seirs e fondamentalmente è basato sulla velocità di transizione da uno stadio all'altro ovvero noi supponiamo che nella popolazione ci sia una certa proporzione di persone suscettibili che all'inizio siamo tutti quando compare un virus nuovo come sars cov 2 ci sono gli individui esposti e all'inizio saranno pochi sono quelli esposti a individui già infetti ci sono c'è una proporzione di agenti di individui infetti e infetti infettanti contagiosi poi individui che avendo acquisito la malattia si guariscono e eventualmente tornano ad essere suscettibili questo dipende dalla dalla durata dell'immunità questione ancora in sospeso per covid non sappiamo quanto dura quanto durerà l'immunizzazione dopo il vaccino quindi noi facciamo delle assunzioni sui tassi di transizione velocità di transizione da uno stadio all'altro e da una da un sottogruppo all'altro della popolazione e questo comporta un accumulo o un decremento dei casi porta quindi a quelle famose stime che sono state prodotte periodicamente sulla velocità di accrescimento o di decrescita del numero di casi nelle popolazioni il secondo modello è tipicamente quello di molte pubblicazioni dell'imperial college e agent based basato sul sugli agenti sulle interazioni tra gli agenti in gioco quindi un modello computazionale che simula le azioni e interazioni di agenti autonomi individuali o collettivi portare la mascherina distanziamento sociale il lockdown il a un certo punto verrà incluso anche il vaccino quale proporzione si vaccinerà ecco questo consente ed è stato fatto ripetutamente nei documenti dell'imperial college di stimare l'impatto delle misure prese e quindi di perfezionare i modelli sir con anche con una valutazione della dell'efficacia dell'impatto delle misure prese e poi ci sono i cosiddetti modelli fenomenologici che sono basati sull'uso di equazioni che descrivono le curve di crescita dell'epidemia nella popolazione secondo certe leggi matematiche per esempio per ebola è stata usata una curva di crescita logistica con una fase iniziale esponenziale o sub esponenziale ma ovviamente non posso entrare nei dettagli sono tipi di modelli tra loro complementari che non si escludono a vicenda vorrei invece adesso far vedere quali sono le assunzioni che sono state fatte nell'uso di uno di questi modelli quello di ferguson e ilaria dorigatti per l'italia pubblicato sul sito dell'imperial college il 5 aprile c'erano numerose forse numerosissime assunzioni nel modello che era un modello agent base quindi valutava l'impatto delle diverse misure prese dall'italia e misure ricordo che includevano il lockdown presumevano un periodo di incubazione medio di 5 giorni corretto si assumeva che l'infezione l'infettività o la contagiosità iniziasse 0,5 giorni prima della comparsa di sintomi questo si è verificato corretto e poi si assumeva che gli individui variassero nella loro contagiosità secondo una distribuzione tipo gamma allora non mi soffermo ma in sostanza la distribuzione tipo gamma implica quello che si chiama sovra dispersione over dispersion cioè il fatto che la diffusione del virus non è omogenea tra gli individui ma certi individui che si chiamano super diffusori sono più contagiosi di altri cioè contagiano più persone molte più persone rispetto ai non super diffusori ci sono svariate stime e non so francamente quali siano giuste ma una cosa che si dice che il 10 per cento degli individui sono responsabili dell'ottanta per cento delle infezioni e questo 10 per cento sono appunto i super diffusori poi ancora si assumeva che due terzi delle infezioni fossero sintomatiche cosa che non si è rivelata reale gli asintomatici sono probabilmente 60 70 per cento del totale degli infetti gli asintomatici quelli senza sintomi e sono apparentemente contagiosi quanto i sintomatici su questo si sono accumulate un po di prove che come spesso viene sono parzialmente incerte ma legate al fatto per esempio che non riusciamo a identificare tutti gli asintomatici attraverso le attività di contact tracing ne identifichiamo soltanto una parte e infine era stato assunto un r con 0 pari a 3,1 come stimato in lombardia all'inizio dell'epidemia questo è un valore estremo che appunto è stato registrato all'inizio poi è diventato il reconti cioè la capacità la velocità di diffusione del contagio una volta introdotte le misure restrittive r con zero invece era la capacità di diffusione la velocità di diffusione in assenza di misure restrittive proprio all'inizio dell'epidemia e il numero di persone che si infettano per ogni persona contagiosa e poi ancora il modello di dorigatti includeva altre ipotesi di partenza per studiare per esempio l'impatto sull'ospedalizzazione sui decessi quindi per ogni gruppo di età considerava la proporzione di individui sintomatici la proporzione di casi ospedalizzati che richiedevano ospedalizzazione o terapie intensive e anche l'infection fatality ratio cioè la letalità negli infetti che come si vede cresce drasticamente molto fortemente con il crescere dell'età quindi tante assunzioni ma come ho mostrato per il modello meteorologico c'è una continua retroazione tra il modello e le osservazioni cioè man mano che si raccolgono osservazioni queste consentono di tarare o calibrare il modello si pensi che i primi modelli dell'imperial college erano basati su wu an sull'esperienza della cina e poi via via hanno cominciato ad acquisire i dati inglesi italiani mondiali per migliorare le predizioni questi modelli hanno anche consentito di effettuare delle delle stime che talora erano corrette talora non lo erano a un certo punto uno dei rapporti dell'imperial college diceva che in italia vi erano stati sei milioni di infetti cumulativamente fino al 28 marzo ma in realtà questa stima è poco verosimile perché a luglio la proporzione di positivi al test antigenico in base all'indagine nazionale dell'istat era del 2,5 per cento cioè circa un milione e mezzo e poi anche il documento diceva che erano state prevenute 38 mila morti grazie alle misure prese dal governo questo è un esempio di modelli modelli fenomenologici predizioni del cdc center for disease control negli stati uniti sono 14 diversi modelli non solo del cdc di tante istituzioni diverse messi a confronto che diciamo estendono le curve osservate ad una al futuro e il fascio di curve si vede che differisce quindi i modelli differiscono fra di loro e questo è abbastanza normale ma è possibile affinare le stime quando si usano tanti modelli diversi questo è uno dei messaggi importanti cioè è meglio avere diversi modelli piuttosto che uno solo metterli a confronto capire quali sono le assunzioni e effettuare la ritorazione con le osservazioni che prima dicevo c'è anche un modello per il Piemonte di Pernice e altri dell'università di Torino sulla rivista che si chiama bmc infectious diseases uscito da poco questo modello seirs quindi basato su assunzioni sulla proporzione di suscettibili infetti e così via e per l'esattezza è la popolazione degli infetti è stata suddivisa in tre gruppi infetti non ancora individuati diagnosticati in quarantena e ospedalizzati la durata media dell'immunizzazione dei guariti è stata stimata in 1,5 anni e poi è stata costruita una matrice dei contatti anche questa è basata su molte assunzioni la matrice dei contatti varia a seconda dell'età e dei luoghi di lavoro in altre parole sono state fatte assunzioni sulla probabilità che un individuo per esempio che va a scuola si infetti o che un individuo che lavora in un'industria si infetti e le matrici dei contatti a loro volta sono state differenziate a seconda dei periodi caratterizzati da diverse misure di restrizione chiaro che quando le scuole erano chiuse la probabilità di infettarsi a scuola scendeva praticamente a zero un'altra assunzione era che ci fosse una proporzione di 1 1 tra il numero di infetti diagnosticati e quelli non identificati modello che era scusate assunzione che era probabilmente ottimistica la matrice dei contatti è stata modulata in questo modo cioè si è assunto che dal 4 maggio il 50 per cento dei contatti fossero dovuti al lavoro e il 35 per cento ad altre cause poi dal 18 maggio che fosse dovuta al lavoro e il 40 per cento ad altre cause e scusate ovviamente manca una proporzione 50 più 35 un'altra proporzione importante era legata all'rsa come sappiamo c'era una quota di anche di trasmissione attraverso gli ospedali il primo giugno 90 per cento lavoro 50 per cento altro la somma è più del 100 per cento perché le categorie si sovrappongono la probabilità è stata di trasmissione interpersonale è stata poi modulata con un parametro che teneva teneva conto dell'uso di dispositivi di protezione e in generale delle regole di distanziamento insomma tutto molto complicato visivamente si traduce in questo parlavo prima di probabilità di transizione da uno stadio all'altro e lo si vede qui a sinistra in alto poi la matrice dei contatti la si vede invece in b e il risultato è una curva che indica la diffusione dell'epidemia a seconda delle fasi delle restrizioni che sono state introdotte ora non ho intenzione di entrare nei dettagli vorrei solo far capire i principi generali su cui si basa l'uso di questi modelli questo è un altro prodotto di quel modello sempre dei ricercatori dell'università di torino dove si combinano diversi livelli di efficacia delle dei mezzi di protezione individuale delle regole di distanziamento e cioè 0 per cento 20 per cento 40 per cento e 60 per cento e diverse capacità di identificazione degli infetti ancora non individuati 0 per cento 10 per cento 20 per cento 30 per cento dove questo si riferisce alla sostanzialmente al contact tracing cioè quanti individui asintomatici riusciamo a identificare grazie al contact tracing al tracciamento dei contatti allora i diversi livelli di efficacia dei mezzi di protezione individuale e delle regole di distanziamento sono sulle colonne e i diversi livelli di aumento di capacità diagnostica sono sulle righe e a seconda delle combinazioni abbiamo una ovviamente una un'epidemia che continua in alto a sinistra oppure un'epidemia che viene rapidamente bloccata in basso destra la situazione in basso destra rappresenta il massimo di protezione tra quelle previste e invece cioè 60 per cento di efficacia di dpi e regole di distanziamento e 30 per cento di capacità di identificazione dei degli asintomatici con il contact tracing mentre invece in alto a sinistra avete 0 e per il regole di distanziamento e 0 a no scusate 10 per cento per chi il contact tracing ecco questi sono i prodotti ma come vedete il prodotto dipende molto dalle dalle assunzioni che vengono fatte per questo le assunzioni devono essere esplicitate e ci vuole una continua retroazione tra modellistica e raccolta di osservazioni commenti rispetto ad altri modelli quello del piemonte ha una caratteristica positiva perché ha considerato tre fasce di età per scolare scolare lavorativa e pensionati per migliorare questi modelli bisogna acquisire buone stime di alcuni dei parametri chiave per esempio la matrice dei contatti per esempio la bontà del contact tracing usare poi i dati per calibrare e anche ottenere parametri mancanti questo è quello che un po stiamo facendo meglio stanno facendo i miei colleghi dell'università e cerchiamo di mettere a disposizione delle scelte politiche anche se tra la produzione di prove scientifiche di osservazioni di predizioni e la scelta politica ci sono sempre delle difficoltà e la traduzione in scelte politiche non è ovvia né immediata così come ci sono difficoltà nella produzione di buoni dati su cui basarsi e in generale a livello italiano c'è una certa arretratezza nella messa a disposizione di buoni dati su cui basarsi per migliorare questi modelli l'ultima considerazione questa e cioè quest'estate insieme ad altri colleghi è un gruppo di lavoro internazionale abbiamo pubblicato un articolo su nature che si chiama cinque modi per assicurarsi che i modelli servano alla società un manifesto ma abbiamo voluto sottolineare il fatto che i modelli matematici producono numeri altamente incerti per predire le infezioni l'ospedalizzazione le morti a seconda di diversi scenari quindi questi modelli non possono essere usati da per esempio da rivali politici nel nel dibattito politico non possono essere branditi come si dice qui per supportare delle agende politiche predeterminate politici decisori amministratori e modellisti matematici devono agire insieme e eh i politici e i decisori devono essere consapevoli delle incertezze insite nei modelli così come peraltro chi produce modelli deve essere a contatto quotidiano con i decisori per sapere quali sono i bisogni conoscitivi non si deve permettere ai ai modellisti di eh proiettare più certezza di quanto i loro modelli non consentono ma d'altra parte i politici non non dovrebbero essere ehm portati a eh eh diciamo attribuire eh credibilità delle loro scelte ai modelli stessi eh se non con con un cautela eh e queste erano le nostre conclusioni nel nell'articolo eh intanto avere più modelli a disposizione è meglio che averne uno solo anche se gestire proiezioni contrastanti e difficile e e noi abbiamo usato questi cinque slogan se vogliamo e cioè eh siate consapevoli delle assunzioni siate consapevoli della hubris che termine greco che vuol dire eh un delirio di onnipotenza ecco i modellisti matematici non devono avere un delirio di onnipotenza eh nel pensare di poter predire eh il futuro attenzione al contesto mind the framing eh contesto sociale politico eh attenzione alle conseguenze eh delle delle predizioni effettuate e attenzione alle eh incertezze ciò che non sappiamo grazie e buongiorno grazie a tutti